A sta la vista ragazzi! Io sono Cyborgamer dal futuro e oggi ci troviamo in un nuovo episodio su Dragon Ball Z Kakarot! Rieccoci qua ragazzi con il nostro carissimo e potentissimo Gohan Super Saiyan Full Power! E oggi torniamo a fare quello che Gohan sa fare meglio, ovvero aiutare le persone proprio come un buon samaritano! Ebbene sì ragazzi, perché qui alla gola orientale la nostra cara Bulma sta chiedendo aiuto, perché semplicemente è preoccupata per suo padre, il dottor Briefs, che è troppo preso dalle sue ricerche. La cosa strana e divertente è che sia Bulma che suo padre sono praticamente buttati qui, in questa zona desertica della gola orientale, e Bulma dice Se solo potessi chiedere aiuto a qualcuno, quindi ha bisogno d'aiuto, e suo padre invece, il dottor Briefs, dice e se no, quindi e se non chiedessimo aiuto a qualcuno, in questo caso credo significhi questo. E ragazzi c'è anche appunto la navicella di Bulma, io non ho capito che cosa ci stiano a fare qui ragazzi, magari stanno cercando dei minerali, dei materiali per qualche ricerca immagino. E a questo punto, visto che Bulma è buttata qui nel deserto, ha bisogno d'aiuto, e noi abbiamo il nostro caro Gohan, che solitamente aiuta sempre tutti, non ci resta che aiutarla. Ma prima di cominciare, vi voglio un attimino ricordare di andarvi a recuperare, se non l'avete visto, lo scorso episodio, in cui ragazzi, semplicemente siamo andati a fare un nuovo allenamento con il nostro caro Gohan, abbiamo sbloccato la Kamehameha e l'abbiamo potenziata e testata in una battaglia. Quindi ragazzi, se per caso non avete visto lo scorso episodio, mi raccomando ad andarlo a guardare o siete terminati. Detto questo, adesso ragazzi concentriamoci su questa missione secondaria di Bulma. Qui ci dice livello consigliato 55 e noi siamo adesso con Gohan proprio a livello 55, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Questa missione tra l'altro va fatta nell'intervallo subito dopo la fine del Cell Game, quindi ci siamo pienamente. Il riepilogo ci dice, Bulma sembra preoccupata per suo padre, troppo preso dalle sue ricerche. Dalle una mano, quindi semplicemente dobbiamo aiutarla, magari a far cambiare idea al suo padre, a fare qualcosa, magari a prendere dei materiali per farlo staccare dalle sue ricerche, probabile. Ricompensa e completamento 168.013 punti esperienza, 5 medaglie D che ci fanno comodo, un ultra pan geniale, una carta 055 e una collana costosa. Quindi ragazzi, tanta tanta roba. Adesso quindi possiamo tranquillamente avvicinarci, devo dire che mi piace tantissimo ragazzi il colore giallo, quasi arancione appunto, giallo scuro, di questa navicella di Bulma. Quindi davvero fantastica, già l'apprezzo. Quindi parliamo un attimo con il Dr. Briefs, parla. Mmm, dice, ok. È assorto nei suoi pensieri, oddio ragazzi, bellissima sta frase. Ok, parliamo con Bulma che ha ancora ragazzi la capigliatura che aveva nella saga degli androidi e nella saga di Cell, quindi non la cambierà per ora. Devono passare i sette anni famosi tra la saga di Cell e la saga di Majin Buu e poi vedremo una capigliatura nuova. Parla. Vediamo subito ragazzi. Oh, ok, intanto abbiamo il Dr. Briefs che manco si è girato dalla nostra parte, cioè sta proprio di spalle. Ok, Gohan dice, ciao Bulma. Ok, oh, ciao Gohan. Perfetto, vediamo che cosa dice Bulma. Che ci fai qui? Beh, sai, mio padre è totalmente assorbito dal suo lavoro e infatti raga lo vediamo, secondo me sta scrutando le montagne per capire se ci sono dei materiali, dei metalli, delle cose particolari. Per poi costruire vari apparecchi tecnologici con questi materiali, probabilmente, visto che uno scienziato è quello che fa. Avanti. In effetti se hai un po' di tempo mi servirebbe il tuo aiuto. Che ne dici? Ma certo ragazzi, siamo venuti qui per questo. Non lo ripeto più. Ok ragazzi, ci siamo. Questo è il nome della missione. Lo scienziato bislacco, riferito al Dr. Briefs. Nome della missione che mi piace un sacco raga, è divertente. Il riepilogo lo abbiamo già letto. Le ricompense anche. Aiutare Bulma? Ma certo ragazzi. Oh, lo scienziato bislacco. E a lei la vedo molto molto contenta. Perfetto, mi fa piacere. Ok ragazzi. La vedo anche in forma Bulma, come anche Gohan, bello piazzato. Sì, se posso. Ok, bravo Gohan. Grazie, lo apprezzo molto. Ma quanta gentilezza, raga, tra questi due. Due personaggi davvero bravissimi. Amo. Allora, che cosa ti serve? E infatti, sicuramente ci darà a minimo una lista di cose da prendere, me lo immagino. Si tratta di mio padre. Ok. Ehm, questo posto ormai è a secco di risorse. Potrei provare l'altro, ma quanto ci metterei? Ok ragazzi, immaginavo che stesse scrutando le montagne. Proprio per capire se ci fossero dei materiali. Mi è venuto così il pensiero e ho azzeccato. Ok. Ehm, emhm, ok. Ancora a pensare sta? Vedi, è in quello stato da un bel po'. Quando si intestardisce su qualcosa, ci passa intiere settimane. Ma come? Cioè, che fa? Si intestardisce, rimane qui a fissare la montagna, non mangia più, non beve più, non dorme più. Possibile che sta qui per settimane? Cioè, ragazzi, è difficile da credere, questo intendo. Vabbè, ok. È arrivato fin qui da solo, dice Bulma. Quindi è arrivato prima il dottor Briefs e poi è arrivata lei. Diciamo, a soccorrerlo. Seguirlo è stata una faticaccia. Ok. Però, ora mi sono stancata, quindi mi servirebbe il tuo aiuto. Povera Bulma, raga, mi fa una pena incredibile del fatto che deve stare dietro a suo padre anziano, che fa cose tutte sue, e adesso ha bisogno di una mano. Però Gohan, alla fine, è una brava persona, quindi aiuta sempre tutti. Si può chiedere aiuto a Gohan tranquillamente. Ok. Volentieri, ma non so proprio cosa potrei fare per un genio come lui, dice Gohan giustamente. Tranquillo, non devi fare nulla di complicato. Però, Bulma, sbrigate a dirci quello che dobbiamo fare, perché mi sto stancando anche io. Devi solo raccogliere dei materiali. Ed eccoci qua, ragazzi, lo immaginavo. Che cosa poteva essere in una missione secondaria? Prendere dei materiali. Una cosa abbastanza semplice. Ok. Oh, sì, questo posso farlo. Tranquillamente, Gohan, raga, non si tira mica indietro davanti a queste situazioni o queste richieste. Ehi, papà, ok, lui stava ancora scrutando le montagne. Finalmente lo vediamo di faccia, perché stava praticamente di spalle a noi. Dice, ok. Ehi, papà, in maiuscolo, alzando la voce, ma non credo senta. Oh, che c'è? Per caso ho un altro nipote? Ma che cavolo dice, ragazzi? Come usa svoltarsi così a Bulma? Cioè, che c'entra sta domanda? A parte che l'altro nipote, che sarà una nipotina, ovvero Bra, Raga, ce ne vuole per arrivare a quel punto. Dobbiamo arrivare a Dragon Ball Super, praticamente. Quindi non è per ora, però. Che domanda è? Cioè, uno si gira e dice che c'è. Ho un altro nipote. Ma che è sta roba? Ok, avanti. Che? Mi hai preso per una fabbrica di bambini? Brava Bulma, faglielo capire. Perfetto. Ho trovato qualcuno che può darti una mano. Su, digli cosa ti serve. Ok, cioè, il Dottor Briefs non è uno che chiede, ma fa da solo. Cioè, cerca di fare da solo. Quindi Bulma è stata molto umile a chiedere aiuto a Gohan. Se no, il Dottor Briefs non avrebbe chiesto aiuto. Ehm, vediamo. Ok, dici, dici. Vediamo, ragazzi. Ok. Quindi. Ok, ragazzi. La famosa lista degli oggetti necessari. Dragolite solida 1. Mai sentita. Dorgalite grande 1. Mai sentita. Dogmalite enorme 1. Mai sentita. Quindi, ragazzi, tutti i materiali mai sentiti. Nuovi. Avanti. Ok, questo dovrebbe essere tutto per il momento. Ok, non mi mandare a prendere altra roba perché mi incazzo. Ehm. So cosa pensi. Ti stai chiedendo cosa sono tutti questi nomi strani. Ecco, ragazzi. Me lo sono chiesto. Sono proprio io. Ecco. In realtà si possono trovare tutti in un solo posto. Ah, grandioso, ragazzi. Allora, ci spicciamo subito oggi. Fantastico. Vedi? Ogni volta che ordino questi materiali, li consegnano a un indirizzo sbagliato. Ah, ecco. Ecco, ragazzi, spiegato tutto. Ok, quindi è un po' disturbante sta cosa che arrivano a un indirizzo sbagliato, effettivamente. Ho pensato che sarebbe stato più rapido venire a prendermeli da solo, ma qui non c'è rimasto niente. Ok, ragazzi. Ecco spiegato perché è venuto da solo e perché non si staccava più da questo posto, perché voleva sti materiali ma non li ha trovati. C'è un altro luogo in cui trovare ciò che mi serve, ma è troppo lontano per me e quindi ci va Gohan. Immagino così, no? Capisco. Allora lasci fare a me. Perfetto, ragazzi. Gohan si comporta esattamente da buon samaritano che aiuta le altre persone. Subito si prende i compiti per le altre persone. Fantastico. Avanti. Grazie, ho segnato la posizione sulla tua mappa, ma che gentile. Buon lavoro, grazie mille. Vicino al luogo che ti ho indicato c'è un minatore che sa tutto di minerali. Dovresti parlare con lui. Ok, ragazzi, lo faremo. Grazie. Ok, è stato aggiunto un segnale sulla mappa Gola orientale. Quindi, ragazzi, nelle vicinanze. Perfetto. Ok, quindi dobbiamo andare da questo minatore, immagino. Vediamo. Lo scienziato bislacco raccoglie i minerali necessari per le ricerche del dottor Briefs. E abbiamo già letto prima quali sono questi minerali. Dragolite solida, dorgalite grande, dogmalite enorme. Parliamo con loro. Conto su di te, ma certo. Bulma che dice. Grazie mille per il tuo aiuto. Perfetto. Ok, qui abbiamo la navicella, ragazzi. Peccato che non ci possiamo entrare. Adesso non ci resta che aprire la mappa e, ragazzi, vedere un po' dove si trova il punto. Eccolo qua, già trovato. Praticamente in alto, raga. Lo scienziato bislacco. Ci mettiamo il segnalino per facilitarci il tutto. E, ragazzi, si parte. Vai, Gohan! Ed eccoci qui, ragazzi. Questo è il posto. Qui c'è il minatore che dice, forse quella montagna. E che altro dice? Chissà se nasconde qualche pietra interessante. Probabilmente sì. Comunque, ragazzi, atterriamo. Andiamo dal nostro caro minatore. Eccolo qua, un bravo signore con la macchina sportiva. Ok, parla. Il cercatore ci dice. Cerchi qualcosa in particolare? Certo, raga, cerchiamo i vari minerali. Quindi, avanti. Ok, ci esce questa lista della dragolite solida, della dorgalite grande, della dogmalite enorme. E poi faccio da solo grazie. No, ragazzi, dobbiamo cliccare su ognuna di queste tre. Quindi, iniziamo in ordine dalla prima. Vai. Le pietre solide si trovano laggiù. Quindi, ragazzi, immagino sulla montagna o ai piedi della montagna. Andiamo a controllare. Ok, ragazzi. Subitissimo. Ci andiamo. Allora, vediamo un po'. Ci abbiamo un sacco di oggetti, raga. Guardate. Ok. Quindi, iniziamo, ragazzi, da quelli che ci sono qui per terra. Quindi, raccogli. Vediamo un po'. Hai ottenuto della dogmalite solida. Non è questa. È più difficile di quanto pensassi. Gohan, non ti arrendere. Su. Vediamo qui, ragazzi. Raccogli. Attenzione. Hai ottenuto della dogmalite solida. Non è neanche questa. Non è questa, ecco. Andiamo qui, ragazzi. Vediamo. Raccogli. E ci siamo. Oggetti ottenuti. Dragolite solida 1. Perfetto, raga. 1 su 1. Dragolite solida. Quindi, torniamo dal nostro caro cercatore, che ci dà informazioni molto utili. Parla. Ok. Adesso, ragazzi, il dorgalite grande. Vai. Le pietre grandi si trovano laggiù. Quindi, sempre ai piedi della montagna, da un'altra parte. Quindi, molto semplice, ragazzi. Vediamo. Ecco. Vedo già dei materiali lì. Perfetto. Ci andiamo subito, ragazzi. Allora, vediamo. Raccogli. Sarà questa? No. Dogomalite grande non è, ragazzi. Ok. Gohan, mi raccomando, non ti arrendere. Dobbiamo fare sta missione. Ok. Raccogli. Hai ottenuto della dragolite grande. Non è neanche questa, ragazzi. Controlliamo meglio. Ok, ragazzi. Lì c'è un altro materiale. Corri, Gohan. Corri. Vediamo. Raccogli. Vediamo se è questa. Dorgalite solida non è questa, ragazzi. Vediamo. Qui, ragazzi, c'è un altro materiale. Quindi prendiamolo. Potrebbe essere seriamente questo. Vediamo. No. Dogomalite grande, raga. Non ancora. Mamma mia. Stavolta è più difficile. Lì, ragazzi, c'è un altro materiale. Proviamoci. A sto punto proviamo tutto. Ecco qua. Raccogli. Vediamo. Neanche questo, raga. E allora è più difficile del previsto. Ha ragione, Gohan. Qui, ragazzi, c'è un altro oggetto. Proviamoci. Magari è questo. Ok. Raccogli. Vai. Ragazzi, ci siamo. Oggetti ottenuti. Dorgalite grande. Perfetto. Uno su uno. E adesso torniamo per l'ultima volta dal nostro caro cercatore che ci sta aiutando tantissimo. Parla. Ok. Adesso, raga. Dogmalite enorme. Vai. Le pietre enormi si trovano laggiù. Ok. Quindi più o meno da quelle parti. Ai piedi della montagna sempre. Vediamo, ragazzi. Oddio. Qua ci sono un sacco, un sacco di materiali. Quindi andiamo subito laggiù. Dogmalite enorme. Proviamo da qui, ragazzi. Allora, raccogli. Niente. Questa non è, ragazzi. Vediamo qui. Dai, forza Gohan. No. Non è neanche questa. Vediamo, raga. Dai, ce la dobbiamo fare. Ok. Raccogli. Niente da fare, raga. Ok. Vediamo se ci sono delle altre qui. Degli altri materiali. Vediamo di qua, dietro di noi. Magari è qui. Raccogli. Niente da fare, raga. Proviamo qui. Ce ne sono tantissimi di materiali. Vediamo. Niente da fare, raga. Neanche questo. Qui, ragazzi, abbiamo quest'altro. A sto punto lo prendiamo. Niente da fare. Bene. Ok. Gohan, dai. Non perdere la pazienza. Qui non si nota nulla, ma dovrebbe stare da qualche parte. Ecco. Ecco, ragazzi. Ecco. Magari potrebbero essere questi. Raccogli. Vai, Gohan. Niente da fare, raga. Molto bella, raga, la navicella. Fantastico quel colore. Ok. Controlliamo. Di qua avevo visto qualcosa di passato. particolare. Ecco qua. Raccogli. Niente da fare, raga. Stavolta è più difficile ed è previsto. Mi sono alzato in volo, ragazzi. E qui ho notato che ci sono altri materiali. Quindi, dopo aver provato ai piedi della montagna, proviamo qui. Vai. Vediamo, ragazzi. Ci siamo. Oggetti ottenuti. Dogma lite enorme. Uno. Ottimo. Questo dovrebbe essere tutto. Ora torniamo dal Dr. Briefs. Certo, ragazzi. Ah, ci torna da solo. Ok. Perfetto, raga. Ecco Gohan che fa l'animazione. Tenga, Dr. Briefs. Oh, quello che mi ha chiesto. Oh, ti ringrazio. Oh, meno male, ragazzi, che è stato gentile. Se no, veramente lo avrei mandato a quel paese. Perché ci siamo praticamente distrutti a trovare tutti quei materiali che non erano proprio facili da trovare in mezzo a tanti che ce n'erano. Avanti. Hai consegnato il necessario. Perfetto. Vediamo adesso. Ma guarda, c'è proprio tutto quello che ti avevo chiesto. Bel lavoro. Oh, grazie mille, Dr. Briefs. Sai. Sai, una volta era tua madre ad aiutarmi con queste cose. Anche se mi portava sempre quelle sbagliate. Ok, ragazzi, questa cosa qua non la sapevo. Rimango abbastanza distucco perché non immaginavo che il Dr. Briefs si facesse aiutare la sua moglie, la mamma di Bulma, che vediamo sempre versare il tè o stare sempre felice, tranquilla, molto rilassata. Ecco, non immaginavo per niente questa cosa. E questo è il bello di Dragon Ball Z Kakarot, che ci mostra delle cose che magari nell'anime hanno trascurato. Quindi il gioco, essendo più grande, ci può mostrare cose un po' nascoste o che nell'anime non hanno detto. Quindi, molto molto bello. Avanti. Una volta le avevo chiesto dei diamanti e mi ha portato della dinamite. Oddio, ragazzi, c'è tanta differenza tra diamanti e dinamite. Ok, Bulma dice, sì, è proprio da mia madre, non c'è dubbio. Ok, la vedo bella contenta. Ok, tua madre è fatta così. Eh già. Però è stato grazie a questo suo particolare modo di pensare che ho potuto cambiare il mio. Ok, fantastico. Quindi diciamo che lui ha cambiato pensiero grazie allo stare con sua moglie, immagino. Avanti. Questo mi ha permesso di liberare la mente e completare praticamente tutte le mie invenzioni. Quindi, grande, grande, ragazzi, la moglie del Dr. Briefs. Davvero grande. Quindi direi che gli errori di tua madre mi sono stati utilissimi. Grandissima, grandissima, ragazzi. Anche se non è presente, la ringraziamo lo stesso. Davvero grande. Eh? Dice Gohan. Quindi non avrei dovuto portarle le cose giuste? Infatti, giustamente Gohan fa la domanda esatta. Vado subito a prendere quello che non mi ha chiesto. Gohan, calmo. Non andare da nessuna parte. Non farti prendere da strane idee. Calma, calma. Aspetta, non ce n'è bisogno. Gohan, ragazzi, subito stava impazzendo. Stava per partire. Lo vedete là in quella posizione. Oddio. Eh? Va bene così. Portarmi le cose giuste è un comportamento normale. Esatto. Portare le cose sbagliate è assolutamente anormale, no? Ti ringrazio comunque per il tuo aiuto. Ma di nulla, Bulma. Ti pare che non ti aiutiamo. Ti conosciamo da una vita. E poi, ragazzi, abbiamo fatto questa missione soprattutto per le ricompense, per l'esperienza e tutti i vari doni. Avanti. Non c'è di che. Ok. Ora mio padre è contento. Non si direbbe, io vedo che ha quei baffi davanti, che sono molto belli, però che non mostrano alcun sorriso, devo dire. Eh, eh, eh. Come la mettiamo? Sì, c'è tutto quello che mi serve. Perfetto. Dai, sei soddisfatto almeno? Dai, abbiamo fatto tutto il lavoro per te. Dovresti essere almeno soddisfatto. Tranne? Come tranne? Tranne? Infatti. L'abbiamo detto tutti quanti? Della musica da ascoltare mentre lavoro. Su questo non ti posso aiutare, credo. Bulma dice quella puoi procurartela anche da solo. Infatti, infatti, raga, non dobbiamo fare tutto noi, ecco. Ah, ah. Eh sì, raga, facciamoci una risata, insomma. È una situazione divertente. Ok, ragazzi, storia completata, perfetto. Lo scienziato Bislacco, bel nome della missione, congratulazioni e ricompense storia, 168.013 punti esperienza, 5 medaglie D, un ultra pan geniale, una carta 0,55 e una collana costosa. Grandissimo. Perfetto, raga, vediamo che altro accade adesso. Attenzione, attenzione, non accade nulla, non saliamo di livello. Facciamo, parla. Qualsiasi cosa abbia un buon ritmo mi aiuterà a concentrarmi sul lavoro. Beh, questo è vero, raga, la musica aiuta molto a concentrarsi in alcune situazioni. Ok, Bulma che dice? I miei genitori sono veramente strani, puoi dirlo forte. Concordo, raga, concordo. Ok, basta così. Quindi, raga, io rimango piacevolmente qui. Abbiamo Bulma, il Dr. Briefs e anche la navicella del mio colore preferito. Quindi, perché non rimanere qua? Quindi, ragazzi, oggi siamo andati a fare questa fantastica e simpatica missione secondaria per Bulma. A quanto abbiamo capito, il Dr. Briefs ordinava ogni volta dei materiali, solo che li mandavano ad un indirizzo sbagliato e quindi non faceva in tempo ad arrivarci che già sparivano tutti i materiali. E quindi, quando è arrivato Gohan, hanno dato il compito a Gohan di andare a prendere questi materiali con nomi strani. Quindi, ragazzi, siamo andati dal cercatore, dal minatore se vogliamo. Abbiamo chiesto a lui dove si trovassero i vari tre minerali e, ragazzi, una volta fatta la ricerca, li abbiamo trovati tutti e tre. È stato un po' faticoso perché c'erano tanti materiali, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Siamo tornati qui, abbiamo dato i materiali e il Dr. Briefs è rimasto contento. E poi abbiamo anche scoperto che, prima di Gohan, la moglie del Dr. Briefs lo aiutava proprio a trovare questi minerali. Quindi, abbiamo sentito anche storie molto interessanti che nell'anime, sinceramente, non avevo mai sentito. E ci siamo fatti una bella chiacchierata con Bulma e il Dr. Briefs. Ovviamente, mi raccomando, fatemi sapere la vostra su tutto questo episodio. Fatemi sapere se questa missione secondaria vi è piaciuta, vi è sembrata divertente, simpatica. Fatemi sapere se l'avete fatta anche voi e se magari questo episodio vi è stato d'aiuto nel trovare quei tre materiali specifici. Dato che, prima bisognava raccogliere tutti i materiali sbagliati, poi alla fine si trovava quello giusto. Quindi ragazzi, fatemi sapere la vostra. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia anche un po' divertito. Se volete ragazzi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. E ricordatevi sempre che io tornerò. E ricordatevi sempre che io tornerò.